o nazista questo ora il nostro sottomarino non lo riavrai resisti ania sto arrivando verbo blaskovic stop non muovere un muscolo finchè non te lo dico io capito capito non scorreggiare nemmeno le microonde ti ridurranno in poltiglia e tu non vuoi diventare vero simpson ok aspetta aspetta ora vieni attento il pavimento frau engel mi stai cercando le parti si sono invertite signora ora sono io a cercare te attento 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 l'uomo ah las quando attesta qu Fai ciò che devi per tenere tutti in vita finché non arrivo. Fai ciò che c'è. 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 Fai ciò. 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 Fai ciò.